Ho perso l'aereo, ho perso il lavoro e la mia unica figlia che si è sposata oggi ha deciso che per accompagnarlo all'altare non voleva me, ma il suo patrino. È la tua ultima occasione, Arvi. Il ricevimento di nozze è ancora in corso? No, no, no. Sì, beh. No. Con Emma Thompson e Dustin Hoffman. Parli così adesso, ma come la penserai domani? Oggi è già domani, questa sera alle 21.30. Grazie a tutti.